A pienato di promozione, girone B, guida di ritorno, campo, lotta polipeno, Milazio, partita Sacro Cuore Milazio contro Real Calcio. Le formazioni che stanno per scendere in campo per il Sacro Cuore con numero 1 Teri, il 2 Milone, il 3 Michalizzi, il 4 Mirordi, il 5 Fleri, il 6 Adamo, il 7 Tranchita, l'8 Calderone, il 9 Torre, il 10 Rizzo, il 11 Buonaccorso, il mister e il mister D'Amico. Per il Real Calcio con numero 1 Lobianco, il 2 Fil Pop, il 3 Cutrona, il 4 Corrao, il 5 Burgi, il 6 Hicca, il 7 Romeo, l'8 Amodeo, il 9 Picone, il 10 Ceruso, il 11 Keita, il mister e il mister Infantino. Palla al centro, partita, partita che inizia lì a questo istante con... Spinto dalla difesa, poi la conclusione del numero 7 Tranchita, di poco a lato. Tranchita avanza, palla al piede, cerca di superare l'avversario e la deviazione... Voglio abbattere questo calcio di punizione, direttamente in porta. Alessio, ancora apre sulla destra, la cosa è che c'è il gol, è un bellissimo anche, è un bel gol, un bel gol di... Calderone. Ancora una volta. Grazie al gol di Calderone, attenzione intanto la punizione. Attenzione, ancora Sacroccoore davanti con Tranchita, il pallone in mezzo, l'antigere... Manca, in solito, non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio in torre. Ancora Calderone, è la parata intensiva del Sacroccoore. Mirodi, Mirodi, con l'alpiede, cerca la spazio per il tiro, la botta di Mirodi, il pallone... Avanza Tranchita in aria, tiro, tiro di Tranchita, la parata e poi c'è il gol, il gol ancora di Tranchita. 2-0. Poi c'è il cross in aria, fischio dell'alpiede, Mirodi, in aria, tiro, deviazione, è sottoporto, colto. Pallone che è in aria, messo in aria, c'è il controllo e poi c'è la rovesciata di Adamo. Il capitano ha il pallone in aria, Oteri, 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 entra in aria in questo momento, cerca il tiro, però c'è anche la risposta, la bella risposta di Oteri. Vento, Vento apre invece per Calderone, Calderone, conclusione, conclusione ora, la parata. Il pallone in rete sembra, è 3-0. 3-0 di, vediamo un po', Formica, Formica triplicato per il Sacroccoore. Quanto è chiusa Fulmi? Ma l'è mezzo, la mista è che forza il tocco di Mirodi. E il ganonazzo diceva il 3-0 della vittoria del Sacroccoore, ci sta tutta, vittoria meritata. Intanto il numero 9 c'è il gol, l'accorso delle distanze di Picone, dovrebbe essere stato Picone, e finisce qua.